Parliamo adesso della giornata mondiale dell'Ictus, la regione toscana manderà in onda sulle televisioni e le radio di tutta la regione un video in uno spot radiofonico proprio per celebrare la giornata mondiale per la lotta all'Ictus che è domani, il 29 di ottobre. Da domani questo video girerà un po' in tutte le televisioni locali così come lo spot. Allora noi andiamo a sentire che cosa ha detto l'assessore alla salute della regione toscana su questa giornata. Lanciamo proprio in occasione della giornata internazionale contro l'Ictus che ci sarà domani, lanciamo una campagna informativa molto capillare per i cittadini affinché siano maggiormente informati su quali sono i sintomi che consentono di riconoscere una possibile presenza dell'Ictus e possano intervenire nel modo più rapido possibile. Facciamo tutto questo perché questa è una problematica rispetto alla quale il tempo con cui si interviene diventa un fattore essenziale. Il tempo con cui si riconosce questa malattia e con cui si interviene rispetto a questa problematica diventa un elemento essenziale non solo per salvare la vita delle persone ma anche per evitare cause poi di invalidità successiva. Quindi abbiamo pensato che valesse la pena fare una importante campagna informativa. Tutto questo insieme al professor Inzitari e ad Alice che è l'associazione che si occupa di Ictus e che fa un lavoro straordinario di informazione e di presa in carico delle persone. Abbiamo pensato che valesse la pena di fare una campagna informativa perché da tutto questo ne guadagniamo in salute sicuramente ma ne guadagniamo anche nei risparmi delle spese sanitarie conseguenti alle condizioni con cui poi le persone rimangono sotto il profilo dell'invalidità. Sono totalmente d'accordo con le considerazioni del Presidente Rossi. Credo che serva un impegno forte da parte del Governo e delle Regioni perché abbiamo la possibilità davvero di eradicare la malattia in un periodo di anni non lunghissimo e penso che questo valga la pena da parte del Governo e anche da parte delle Regioni di fare un importante investimento. Quindi sono d'accordo anch'io che bisogna lavorare per creare le condizioni perché sia possibile realizzare fino in fondo questo obiettivo. Sì, nel senso siamo tutti un po' preoccupati ma sappiamo che la condizione del Paese è quella che è. Quindi comunque apprezziamo che esista un miliardo in più di investimenti sulla sanità per il prossimo anno. Apprezziamo l'impegno del Governo su tanti fronti come quello della povertà, sul Fondo per la non autosufficienza, su tanti aspetti, penso per esempio al dopo di noi, che erano misure inesistenti nelle precedenti manovre finanziarie. E quindi insieme sono convinta si possa fare un buon lavoro anche nella limitatezza delle risorse che non riguarda naturalmente solo la sanità ma riguarda ovviamente una condizione generale del Paese rispetto alla quale ognuno di noi deve fare la propria parte.